Nel corso del video conclusivo che apriva le porte per il 2020, tra le altre cose vi ho parlato di un particolare tipo di format che volevo portare e che aveva come obiettivo quello di valutare tutti i Pokémon di una generazione specifica, con l'intento di scoprire, possibilmente prima dell'annuncio della nona, quale di queste fosse la mia preferita a livello di soli mostriciattoli tascabili. Potete vedere questo video come una sorta di episodio zero di quella rubrica, all'interno del quale vorrei discutere di come molto spesso i Pokémon sono valutati dalla massa e di come invece, secondo me, sarebbe più opportuno giudicarli. Faccio questo video non solo per intrattenervi con quella che sarà una sorta di critica del giudizio, ma per i Pokémon, ma anche per un fattore logistico. In questo modo, qualora all'interno di questa serie che vi porterò alcune valutazioni sembreranno così strane, piuttosto che specificare inizio video ogni volta quali siano i miei criteri, posso tranquillamente rinviare a questo video e far sì che tutto sia più chiaro a tutti. Detto ciò, direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare con un'affermazione che mira precisamente a smontare un luogo comune che molto spesso viene chiamato in causa quando si parla di giudizi. Le differenti valutazioni di due persone che giudicano separatamente un Pokémon, ma il concetto si può estendere anche a qualsiasi altra opera d'arte, non necessariamente dipende dal puro gusto personale. Certo, ci sono migliaia di motivi personali per cui uno alla fine possa giungere a preferire un Pokémon rispetto a un altro, come del resto ce ne sono altrettante migliaia per preferire che so un Van Gogh a un Picasso. Ma il motivo per cui personalmente preferisco un Phalanx o un Feraligator andando probabilmente contro l'opinione di tutti risiede poco nei gusti personali, ma si rifà piuttosto a dei metri di giudizio che ognuno di noi possiede e che mette sul piatto della bilancia nel momento in cui dà un parere. E posto che il metodo perfetto ovviamente non esiste, dato che come ho già ribadito ci sono un sacco di motivi personali per cui alla fine uno possa preferire un Pokémon all'altro, esistono tuttavia metodi più o meno accurati. Vi faccio un esempio visivo molto intuitivo per capire cosa intendo. Guardate questa immagine. Immagino facciate fatica a distinguere più di un colore e qualora io vi chiedessi di descrivere la colorazione di questa immagine probabilmente mi rispondereste solo con il nome di quel colore. Il punto è che l'immagine che vi ho appena mostrato è sfocata. Se la mettessimo a fuoco notereste che i colori non sono uno ma sono due e la vostra descrizione si arricchirebbe di un dettaglio in più. Con ciò non sto dicendo che la prima descrizione fosse errata anche da un punto di vista logico, è corretta, quell'immagine ha effettivamente quel colore ma è poco precisa. E lo era perché metteva in luce un unico dettaglio. E ne metteva in luce solo uno perché era in grado di percepirne solo uno. E allora quella parte era percepita come la totalità dell'immagine. Così a mio avviso funziona presso a poco con i Pokémon. Questi ultimi sono una sorta di intelaiatura tra vari livelli che comprendono l'estetica in sé del Pokémon, l'idea da cui l'estetica trae spunto e dunque l'unione tra le due e ultimo anche se in una maniera diversa che più avanti spiegherò anche il lato competitivo del Pokémon che esattamente come il lato più artistico in un certo senso lo caratterizza. Ora è chiaro che una valutazione al 100% completa di un Pokémon deve passare da questi tre fili principali e soprattutto deve avere sensibilità a questi ultimi. Per intenderci facciamo un altro esempio, questo video è pieno di esempi. Chi non ha mai studiato un briciolo di storia greco-romana o chi è semplicemente totalmente disinteressato alla questione non riuscirà mai a cogliere quello che sta dietro a Phalanx. Non riuscirà mai a cogliere il perché abbia quell'aspetto, il perché abbia quelle mosse, il come siano state sviluppate bene quelle mosse, il come si siano adattate bene al Pokémon. E non farà altro che vederci delle stupide palline che combattono informazione. Dall'altro lato immaginiamoci un esperto di guerre antiche ma cieco fin dalla nascita. Questa nostra figura, verosimilmente, nel sentire cosa sta dietro a Charizard, cioè molto poco, e cosa sta dietro a Phalanx, ossia molto di più, probabilmente andrebbe ad apprezzare più il secondo e lo farebbe automaticamente in quanto si baserebbe su un unico criterio di valutazione, che in quanto cieco ovviamente non comprende l'estetica. Ora, tornando un attimo alla nostra immagine come esempio, per dare una valutazione completa al 100% di un Pokémon abbiamo detto che quell'immagine, se fosse un Pokémon, dovrebbe essere messa a fuoco il più possibile, in modo tale da distinguere al suo interno tanto l'estetica quanto l'idea. E attenzione, più completa non vuol dire più giusta. Quello che voglio dire è che a parità di messe a fuoco, quindi avendo entrambi davanti tanto l'estetica quanto l'idea, io e te potremmo avere due opinioni totalmente divergenti, ma le nostre opinioni sarebbero ugualmente complete, perlomeno nella struttura. E' ovvio che alla fin fine i contenuti dei nostri pareri saremo noi a deciderli, sarà il gusto personale ad influire, saranno anche le esperienze che abbiamo vissuto a influire. Ma il fatto che un'immagine sia messa a fuoco o meno non è un parere personale, è oggettivo. Prendete me ad esempio, io sono mio, perché se mi tolgo gli occhiali con la fotocamera la vedo sfocata, non per questo posso dire che secondo me invece ci vedo bene. Il fatto che io abbia bisogno degli occhiali e che sfanculino il green screen dietro è oggettivo. Ora, sperando di aver chiarito questo punto e non essere frainteso, proseguiamo. Abbiamo detto che una valutazione a 360 gradi di un Pokémon dovrebbe comprendere tre aspetti. In breve si sono l'estetica, il concept e lo sviluppo competitivo. Tra queste tre, il rapporto tra le prime due, ossia estetica e idea, ci fornisce il metodo corretto per andare a valutare un design. Che cos'è un design? Il design è propriamente un'opera estetica funzionale a ciò a cui l'oggetto serve. Il termine è nella sua origine industriale, cioè si applica a tutto ciò che è fabbricato e quindi a tutti quegli oggetti che devono soddisfare tanto un'esigenza estetica quanto una necessità effettiva dell'acquirenta. Esempio stupido, il frigorifero deve avere un'estetica gradevole all'occhio, ma deve sapere anche raffreddare. Nel caso invece di un Pokémon, e in generale nel caso di un'opera d'arte, il design mira a trasmettere un'idea insita nel concept. Se il concept di Charizard è quello molto banale del drago sputafiamma, allora il suo design dovrà trasmettermi l'idea di una creatura mitica. Insomma, detto meno poeticamente, deve essere figo. Il concept di Garbodor invece è l'inquinamento, e il suo design non può essere bello di conseguenza, perché è funzionale a un'altra idea e l'inquinamento non è bello. Ancora, volendo fare un esempio negativo e più vicino a noi in senso temporale, Calyrex a mio avviso è un Pokémon sbagliato proprio per questo motivo. Questo Pokémon in linea di massima dovrebbe trasmettermi la fierezza di un comandante, ma nel suo design tutta questa fierezza io non ce la vedo. Chiaramente dobbiamo ancora vedere il Pokémon, non è ancora tempo di valutazioni, ma perlomeno mi sono fatto capire su un esempio attuale. Ora, credo che sia evidente che valutare un Pokémon entro questi termini ci fornisce una descrizione più accurata rispetto alla valutazione meramente estetica. Certo, Garbodor è brutto e su questo non abbiamo dubbi, è sicuramente una certezza ed è anche una descrizione giusta, ma è un po' come rispondere a un terzo di una domanda in un test. Non è che si sia sbagliato propriamente qualcosa, si è semplicemente omesso tutto un altro discorso. E allora occorre chiedersi perché Garbodor sia brutto, cosa si cieli dietro la sua bruttezza. Se messi a confronto sul piano meramente estetico, è abbastanza ovvio che Pidgeot sia più bello di Garbodor, sarebbe come dire che Caravaggio è più bello di Picasso. Avrebbe persino poco senso dirlo, cioè è scontato, lampante. Ma se si aggiunge una spiegazione alla bruttezza di Garbodor, o se preferite una poetica all'opera di Picasso, allora le cose cambiano. E le valutazioni di entrambe si rialzano, con Garbodor che potrebbe addirittura arrivare alla pari, se non sopra Pidgeot, perché no? Valutare le cose solo esteticamente è un po' come valutare l'immagine precedente partendo dalla sua visione sfocata. Non che non si possa fare, anzi è perfettamente legittimo preferire personalmente Pokémon semplicemente belli. Non c'è nulla di male in ciò, ma siccome nel farlo si sta arbitrariamente escludendo tutto un altro lato del Pokémon, allora per una discussione che punti all'oggettività questo è un errore di metodo. Avrete forse però notato che nell'esempio dell'immagine che vi ho posto, i colori sono due, mentre io vi ho parlato di tre aspetti sui quali basare la propria valutazione completa di un Pokémon. Questo perché se estetica e concept si uniscono nel design, in realtà il lato competitivo è svincolato da quest'ultimo, ma tuttavia molto vincolato al Pokémon. Quello infatti che non vi ho detto è che quell'immagine in realtà ha un retro. Un retro che è di un altro colore, ma che noi precedentemente nemmeno con la più potente messa a fuoco siamo stati in grado di percepire perché non abbiamo cambiato prospettiva. Se prima allora il problema era di messa a fuoco, adesso la questione diventa prospettica. Questa telecamera mi sta mettendo a fuoco, e tutto sommato sareste in grado in questo momento di fare una descrizione molto accurata del mio viso. Ma per quanto l'abbia pagato 500 euro, questo gioiolino non sarà mai in grado di farvi vedere che dietro questi capelli c'è una pelata che minaccia in futuro di falciarli uno ad uno. Per vederla dovreste cambiare angolazione della telecamera, ma non potete perché la telecamera ce l'ho in mano io. E quindi ecco a voi come io intendo un Pokémon in fase di valutazione. Un geno bifronte, le cui facce sono da un lato il design, unione di estetica e concetto, e lo sviluppo competitivo del Pokémon che è svincolato dalle prime due. Ma passiamo alla parte più pratica del video. Fatto tutto questo discorso, quale sarà all'interno della serie il mio personale metro di giudizio? Purtroppo mi rendo conto di avere delle pecche, di non essere un giocatore Pokémon a 360 gradi. Sto cercando di recuperare, sia chiaro, ma non ho una conoscenza competitiva sufficiente per valutare quell'altro lato. E immagino che vista la storia tortuosa del competitivo in Pokémon, sia in generale un lavoraccio per tutti. Nella mia serie mi limiterò, per così dire, a valutare il lato artistico dei Pokémon, e che comprende l'estetica e il concept riuniti in un design. Insomma, immaginate che io consideri i Pokémon come se fossero delle opere d'arte con i loro stili. Che so, Charizard potrebbe essere un Policleto, Fleppo, Lundali, Toxtricity, un Raffaello. E il bello è che nessuno di questi artisti potrà dirsi superiore all'altro. Saranno semplicemente diversi e in ciò non ci sarà nulla di male, anzi sarà la loro forza. Così come questa è probabilmente la forza dell'arte, quella di saper rappresentare l'idea di una persona, e dunque anche l'idea di un tempo, l'idea di una storia. E allora no, non sarà una valutazione completa al 100% come la intendo io la mia valutazione, ma del resto come farla se non ne conosco una parte. Semplicemente non potrei e allora mi limiterò a fare quello per cui molto probabilmente alcuni di voi, se non tutti, si sono iscritti a questo canale. Non parlerò di questioni tecniche, ma parlerò di arte, di filosofia e di cultura legata inesorabilmente anche al mondo Pokémon. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività di fuori dal canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!